Come accade ogni 15 giorni, eccoci di nuovo qui a chiacchierare un po' di Game Pass Per parlare un po' delle ultime uscite, delle cose che stanno uscendo e delle cose che stanno per arrivare Insomma, uno degli appuntamenti che mi divertono di più anche perché c'è modo di parlare veramente di un'infinità di cose Per cui, siccome oggi di argomenti ce ne sono parecchi, mi getterei giusto, giusto appunto al dunque Allora, sono arrivate diverse cosine intriganti, devo dire Che, dunque, tutti quelli che stanno sotto la prima fila li abbiamo già trattati Allora io partirei dal mio preferito di questa settimana, di questo periodo Che è Turnip Boy, Commits Tax Evasion Allora, è il gioco di una rapa che fa evasione fiscale E che dunque si trova a dover gestire tutte le conseguenze in un contesto dominato dal sindaco Cipolla Che è una persona molto, una persona, è un essere molto, molto così È uno sfruttatore Allora, il gioco è completamente nonsense Il gioco è completamente nonsense È un susseguirsi di compiti che vanno completati e che ne sbloccano altri Per esempio, una lumaca che non paga l'affitto Una volta eliminata permette di fare altre cose e via discorrendo Insomma, un obiettivo tira l'altro Verebbe da dire in un contesto completamente fuori di testa Ma che vi strapperà più di un sorriso Perché molti dei dialoghi, peraltro tutti in italiano Sono resi in maniera tale da ironizzare su alcune cose del mondo moderno Della cultura pop, tipo le live, gli streaming Insomma, è un prodotto veramente originalissimo nel suo essere Non particolarmente, così, straordinario in termini puramente ludici Ma funziona, funziona anche piuttosto bene Per cui datevi un'acchiata perché quantomeno vi farete due risate Ecco, che forse a volte è la cosa che più cerchiamo da un gioco Leggero, divertente, carino Poi, Seven Days to Die Che è uno dei survival più cattivi, più oscuri, più angoscianti, se vogliamo Degli ultimi anni Ambientato in un contesto pieno di zombie e di creature oscure È un titolo che all'epoca provai Ma si parla di una vita fa E che credo di voler riprovare adesso E che credo sia arrivato a un punto di completamento Decisamente più raffinato e rifinito Quindi, io me lo ricordo come un titolo validissimo In questo specifico caso non ho ancora avuto modo di giocarci Ma mi rimetto eventualmente a voi Tanto sicuramente qualcuno nella community ci avrà giocato E potrà approfondire Ma, insomma, divertente, credibile, angosciante Me lo ricordo, veramente un titolo valido Che adesso, peraltro, essendo parte dell'abbonamento Fa ancora più piacerea Poi, Research and Destroy Si verso nei panni di scienziati Il cui compito è quello di ricercare e sviluppare nuove stravaganti armi e gadget Mai visti prima per distruggere le orde Sovranaturali che hanno attaccato gli umani Allora, è un concept particolare Che, devo dire, mi sta stuzzicando non poco Sono giocato ancora poco, devo dire Però quel poco che ho visto Mi ha soddisfatto Cosa che non credevo Perché credevo che fosse una minchiatona Dei proporzioni ciclopiche Invece c'è del buono in lui Sia per un discorso di direzione artistica Un po' così fuori di testa Sia proprio per un discorso di concept Che effettivamente funziona Per cui, consigliato agli amanti della strategia A turni Quello, quello sì Poi, Unsold Allora, questo è un gioco in early access Parliamo di un action Molto, molto frenetico Molto, molto rapido Il classico gioco di azione pura Fondamentalmente Che però vantano buona reattività dei comandi Già in questa fase Per cui devo dire che Per adesso sembra promettere bene Chiaro Quando si parla di early access Non è mai detta l'ultima parola Ma le premesse sono molto buone Artisticamente non mi dispiace Per quanto non mi faccia vedere al miracolo Ma in senso assurdo È un progetto che sembra avere delle buone basi Su cui spero Possano costruire anche Un radioso futuro Per la produzione Poi è arrivato Bugsnax Il titolo Che credo di poter Raccontare con una vecchia clip Meglio di qualsiasi altra parola Il gioco in cui Se mangi la mela Ti cresce la mela Se mangi la banana Ti cresce la banana Non sappiamo cosa ci crescerà oggi E quindi E se mangi i fichi Vabbè Dai Dunque Ma che angoscia Sfama Ma se va a mangiare da solo questo Niente Quasi Raga la prossima è quella buona Le fragolette Poi te cresceranno due belle fragolette E niente Te sono cresciute le scarpe Già gli stivali di fragola Le scarpe fragolate Io ho parlo del scoperto Dove gli cresce la carota Però eh Aia 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 Gli crescerà in testa Aia Io Io Potrebbe Da momento in alto Potrebbe non essere più adatta La pubblicazione Eh Eh sì Il vecchio Bugsnax è tornato E Superati i confini del mondo PlayStation Ci offre la sua visione Dell'alimentazione A base di frutta e verdura Applicata al gaming È un titolo divertentissimo Devo dirvi la verità Io all'epoca Mi ci sono veramente Divertito tanto Insieme a Lisa E devo dire Che Parecchie persone Che all'epoca Non hanno giocato Sicuramente Lo apprezzeranno Tantissimi enigmi Legati proprio al Al consumo Di frutta E È fuori di testa Il gioco È effettivamente fuori di testa Ma Ma vi divertirà Quello è poco È una settimana un po' così Del nonsense Sul Sul game pass Ma Ogni tanto Ce n'è Desperato bisogno E poi Un titolo Decisamente più serio Decisamente più Più importante In termini proprio di budget Che è NBA 2K22 Il titolo di 2K Dedicato al basket Gioco Molto molto ricco Di attività Di contenuti C'è veramente L'impossibile Da poter fare C'è uno scopriamo Qui sul canale Se volete approfondire Ma insomma È un titolo Che non ha bisogno Di grandi presentazioni La serie di NBA 2K È una delle più Importanti La più importante Ora come ora Per tutti gli appassionati Del genere È un titolo Onestamente Ricchissimo Di spunti Interessanti E che racconta Il mondo del basket In maniera veramente Avvolgente Coinvolgente Per cui Straconsigliato Alle amanti del genere E anche chi magari In genere Non lo conoscesse Ma che attraverso Questa Presenza Nel pass Potrebbe magari Scoprire una passione Che non credeva di avere Per cui Dategli un occhio Anche qui Come vi dico Tutte le settimane Tutte le volte Insomma Che parliamo di Game Pass Di servizi in abbonamento E di giochi gratuiti Insomma Se avete accesso A qualcosa Provatelo E io dite No ma tanto Non mi piace Provate Poi eventualmente Potrete dire Non mi è piaciuto Ma dopo averlo provato Se no È uno spreco di soldi Poi Allora andiamo a vedere Un po' le cose Che stanno uscendo E poi le cose Che stanno entrando Allora Strings of Rage 2 Da recuperare assolutamente Per gli amanti del genere Di picchiature a scorrimento Specialmente se condivisi Outlast 2 Anche qui Volete un po' Di terrore Di paura Questo è il gioco Che fa per voi Cricket 19 È entrato da poco Quello più recente E GTA San Andreas De Definitive Edition Già esce Questa mi ha un po' Spiazzato Quest'uscita Perché effettivamente Non me l'aspettavo In questa fase Però Evidentemente I loro accordi Sono già Scaduti Ma andiamo Sulle cose più intriganti Presto disponibili Allora Il 5 Arriva Track Toyomi L'avete già visto Qui sul canale In forma abbastanza ricca Con un bel Primo contatto Approfondito Gioco meraviglioso Non fatevelo scappare Prescaricatelo Non appena possibile Stesso discorso Per The Sword of Mine Final Cut La versione completa E definitiva Per Next Gen Di uno dei titoli Più importanti Della scena contemporanea E non solo Racconta La verità della guerra In maniera cruda Violenta A volte Assolutamente necessaria Per far percepire Anche la nuova generazione Quanto Il conflitto Sia sempre Da evitare E crudo Pesante Ma dannatamente Coinvolgente Un gioco Che più che un gioco È un'esperienza Poi Juden Chronicle Rising Anche questo Lo trovate sul canale In una forma Abbastanza approfondita Con un primo contatto Un gioco Molto vecchio A scuola Se vogliamo Ma dalle Sicure Opportunità Di divertire Chiunque fosse In cerca Di qualcosa Di un po' Orientato Magari verso Il passato Del gaming Ma pur sempre Capace di divertire Almeno da quello Che ho potuto vedere Credo che avrà Degli spunti Piuttosto interessanti E poi vabbè Delle cose Degli arrivo a giugno Ne parleremo Ma Shadowrun Come serie Su PC Già la trovate tutta Se avete occasione Fateci una partita Perché è tanta roba Pure questa Per cui ragazzi Io direi che per adesso Questo è tutto Mi come sempre Affido anche ai vostri consigli Le vostre proposte I vostri punti di vista Se avete suggerimenti O cose da sconsigliare Fatelo nei commenti Noi ci vediamo fra 15 giorni Per parlare delle ultime novità Sul Game Pass Grazie a tutti